Fermo là! Stavi cercando la guida audio definitiva per OBS Studio? Beh, l'hai trovata! Dimenticate VoiceMeeter Banana perché con questo plugin non avrete bisogno di nient'altro. Ne avevamo già parlato di WinCapture Audio, ma dal momento che è uscito un aggiornamento ho deciso di fare un nuovo video. Oggi parleremo di come separare tutte quante le tracce audio nelle vostre live streaming da Spotify per evitare il copyright, a Discord, alla chat vocale di gioco, agli alerts che avete su StreamElement e tanto altro. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di venirmi a trovare il live su Twitch. Qui sotto in descrizione vi lascio il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer e il nostro sito internet Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Proprio in questo periodo abbiamo pubblicato una nuova funzione del sito che è quello dell'assistenza, quindi se avete dei problemi con le vostre streaming di qualunque tipo mi raccomando veniteci trovare. Vi lascio subito all'intro, buona visione! Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned e andiamo a vedere subito il loro super sito. Eccoci qua sul sito di Oned, come potete vedere ci sono tantissime grafiche per le nostre live streaming, dai pack completi alle motte, gli stemmi e tanto altro. Guardate ad esempio questo pack, si chiama SynthRunner. All'interno trovate tantissime grafiche animate e statiche per i vostri canali Twitch. Sicuramente uno dei migliori modi per avere grafiche professionali appena si inizia a streammare. Come vi dicevo possiamo trovare anche le motte e sono animate. Guardate che belli questi lupi e all'interno del pack ne trovate otto. Mi raccomando qualunque prodotto di grafica acquistate all'interno del sito di Oned, utilizzate il codice M89-Gamer per ricevere subito lo sconto. Prima cosa installiamo il plugin di WinCapture Audio, quindi entriamo all'interno del sito di OBS Project, andiamo su Go to Download e scarichiamo WinCapture Audio Setup. Una volta scaricato lo apriamo nella cartella, doppio clic e avviamo l'eseguibile. Ricordatevi di installarlo con OBS chiuso. Dopodiché andiamo a installare anche VB Cable, perché ci servirà dopo per inserire una traccia audio dedicata per la chat di gioco. Clicchiamo su Google VB Cable, andiamo qui, clicchiamo qui su Just Here e scarichiamo la versione per Windows. Una volta scaricata l'apriamo, scompattiamo l'archivio, se abbiamo 7-zip facciamo tasto destro, 7-zip, estrai in il nome della cartella. In questo modo l'avremo scompattato. Entriamo all'interno della cartella, avviamo l'eseguibile X64, tasto destro, esegui come amministratore, e avviamo l'installazione. Una volta installato anche questo, riavviamo il sistema e torniamo tra poco. Ora apriamo OBS Studio, andiamo nelle impostazioni, e verifichiamo che le uscite audio generali siano tutte quante disattivate. Dobbiamo averle settate in questo modo, così avremo la possibilità di scegliere dove mettere tutte le nostre fonti. Ora clicchiamo su OK. Come vedete qui abbiamo una scena già creata con una clip a caso, tanto per far scorrere qualcosa mentre parlo. Creiamo le scene che ci serviranno durante la live. Clicchiamo su più, questa qui la chiamiamo Starting Soon, poi creiamo una scena e la chiameremo Audio. Clicchiamo su più di nuovo, e qui scriviamo Audio. E poi clicchiamo su OK. Torniamo sulla scena di gioco, e qui dovremo inserire il microfono, dal momento che abbiamo disattivato l'audio globale. Clicchiamo su più, andiamo su Cattura Audio in entrata, scriviamo ad esempio Microfono, e qui se lasciamo su Predefinito, OBS catturerà la fonte predefinita che abbiamo impostato su Windows. Se invece vogliamo scegliere un dispositivo differente, basterà cliccare qui sopra e sceglierne uno diverso. Se avete un microfono USB collegato al PC, troverete probabilmente il nome di quel microfono. Se l'audio è impostato correttamente, vedrete la linea muoversi all'interno del mixer audio. Bene, ora andiamo sullo Starting Soon ad esempio. Se non avete uno, vi consiglio di scaricarlo all'interno del nostro store. Come vedete qui abbiamo tantissime webcam overlay, ma abbiamo anche dei pack con degli Starting Soon per le vostre live. Di pack ce ne sono davvero tantissime, ad un prezzo estremamente vantaggioso. Probabilmente qui ci ritroveremo con il nostro file JPEG, oppure con l'MP4, con lo Starting Soon, e non vorremmo utilizzare il microfono, perché quando noi avviamo la live, siamo, diciamo, ancora off streaming dalla nostra parte, e non vogliamo far sentire quello che stiamo dicendo. Perciò qui non inseriremo il microfono. Come vedete la differenza tra questa scena, questa scena qui ha il microfono all'interno del mixer, quest'altra scena non ha assolutamente nulla. In questa qui potremmo aggiungere la fonte di Spotify. Adesso andiamo sulla scena dedicata all'audio e inseriamo tutte quante le nostre fonti. Clicchiamo su più, andiamo su Application Audio, chiamiamo questa fonte musica, clicchiamo su OK, in modalità lasciamo quella che troviamo, ovvero la prima opzione, e all'interno di sessioni troveremo tutti gli eseguibili avviati in questo momento. Ad esempio ora proviamo a aprire Spotify. Anche se l'abbiamo avviato l'app, non la troveremo finché non avviamo l'audio. Piccola parentesi, se volete seguire la mia playlist su Spotify, basta che cercate M89-Gamer. Ad ogni modo, avviata una qualsiasi canzone, troveremo l'eseguibile di Spotify. Basterà cliccare qui sopra e poi cliccare su Add. All'interno di questa fonte, che abbiamo chiamato musica, possiamo inserire più eseguibili. In questo caso possiamo inserire anche ad esempio YouTube. Quindi apriamo Chrome, andiamo su YouTube, avviamo uno dei miei video, così OBS lo leggerà come eseguibile audioattivo. Torniamo qua, riapriamo le sessioni, se non lo troviamo non è un problema, basterà cliccare su OK e ci ritorniamo dentro di nuovo. Doppio clic, eccolo qua. Selezioniamo Chrome, clicchiamo su Add e abbiamo inserito anche Chrome all'interno di questa fonte musicale. Possiamo utilizzare una fonte dedicata anche per le chat vocali. Io utilizzo sempre Discord, quindi inserirò quella, ma voi potete inserire qualunque tipo di software che gestisce le chat vocali. Apriamo Discord. Una volta aperto, creiamo una nuova fonte, clicchiamo su più, torniamo su Application Audio. Questo lo chiamiamo semplicemente chat. Qui la modalità la lasciamo come prima, andiamo su Session e questa volta aggiungeremo Discord. Clicchiamo su Discord e poi su Add. Come vi dicevo, possiamo gestirne più di una, quindi eventualmente se abbiamo anche TeamSpeak possiamo inserirlo qui. E ora come vedete abbiamo due fonti separate, una per la chat, l'altra per la musica. Ma non è finita, perché ora dobbiamo creare quella di gioco e quella della chat all'interno del gioco. Quella di gioco è molto semplice, basterà avviare ad esempio Warzone e una volta avviato aggiungeremo l'eseguibile del gioco qui all'interno di OBS Studio. Abbiamo avviato e socchiuso Warzone, clicchiamo su più, Application Audio di nuovo, qui scriviamo tipo Giochi, clicchiamo su OK e come per tutti gli altri entriamo in Session e selezioniamo il nome del gioco che è Modern Warfare e poi clicchiamo su Add. La figata di questo aggiornamento è che potremmo inserire una volta sola tutti quanti i giochi a cui giochiamo e tutti loro faranno riferimento alla stessa fonte audio. Adesso c'è la parte chat di gioco. Allora, entriamo su Warzone. Ovviamente questa cosa la potete fare con qualunque tipo di gioco. Noi stiamo prendendo Warzone come esempio, ma tutti gli altri giochi funzionano allo stesso modo. Andiamo su Opzioni, entriamo dentro l'audio e qui, come vedete, io l'avevo già impostato, dobbiamo selezionare i VB Cable, cioè questi qui. Non vi potete sbagliare perché sono gli unici che si chiamano VB Audio Virtual Cable. Quindi li selezioniamo, socchiudiamo Warzone, ritorniamo su OBS Studio, clicchiamo su Più. Questa volta però andiamo su Cattura l'audio in uscita. Questa fonte la chiamiamo VB Cable. Qui clicchiamo su Dispositivi e selezioniamo i VB Cable. Eccoli qua. E clicchiamo su OK. Ora tutto l'audio che passerà all'interno dei VB Cable, ovvero in questo caso la chat di Warzone, verrà sentito dalla nostra live, ma non verrà sentito da noi. Per far sì che l'audio passi all'interno delle nostre cuffie, clicchiamo sull'ingranaggio, andiamo su VB Cable, clicchiamo qui e facciamo Monitora l'audio e invia l'uscita. E poi clicchiamo su Chiudi. Adesso tutto l'audio che passa passerà prima dalle nostre orecchie in fase di monitoraggio e poi verrà spedito all'uscita. Tutto ovviamente in tempo reale. Piccola parentesi, in merito ai VB Cable possiamo utilizzarli solamente quando li abbiamo in monitoraggio su OBS Studio, altrimenti non sentiremo la chat di gioco. Pertanto dovremmo switchare sui VB Cable solamente quando siamo in live streaming. Quando siamo off streaming e giochiamo con i nostri amici dovremmo utilizzare un'altra fonte audio. Bene, ora che abbiamo la nostra scena piena di fonti audio basterà andare sulla scena principale cliccare su più andare su scena e inseriamo direttamente la scena audio. In questo modo avremo tutte quante le fonti audio direttamente con un click. Per quanto riguarda invece lo starting soon non vogliamo che ci siano tutte le tracce audio invece preferiamo che ci sia solamente quella della musica. Allora andiamo su audio andiamo su musica tasto destro copia andiamo sullo starting soon tasto destro incolla riferimento. In questo modo abbiamo solamente la traccia musica all'interno dello starting soon. Le cose che mi avete chiesto in tanti nel primo video che ho pubblicato in merito a WinCapture Audio sono state punto uno la chat di gioco e come gestirla e quello l'abbiamo risolto. L'altra cosa invece sono gli alert quelli ad esempio di StreamElement. Adesso vi mostro come andare a gestire l'audio attraverso OBS Studio. Do per scontato che li abbiate già configurati se non è così vi lascio qua sopra un video dove vi spiego come utilizzare StreamElement da zero. Allora entriamo dentro l'overlay degli alerts copiamo direttamente Link Browser se già avete configurato tutto su OBS ovviamente questo passaggio potete saltarlo. Torniamo su OBS Studio e ora dobbiamo decidere dove inserire i nostri alerts ad esempio sicuramente la scena del gaming e anche magari quella di un eventuale Just Chatting. Clicchiamo su più andiamo su Browser qui scriviamo Alert dentro l'URL lo selezioniamo poi facciamo tasto destro paste dimensione 1920x1080 e qui dobbiamo selezionare controlla audio tramite OBS questo è quello che ci permetterà di sganciare l'audio degli alerts dalla vecchia fonte desktop quindi clicchiamo qua e poi clicchiamo su OK ora come vedete vi trovate una fonte audio che si chiama alerts se noi andiamo a provare attraverso StreamElement simuliamo un nuovo follower come vedete qua c'è l'alert ma io non lo sento nelle orecchie perché come per il Wubi Cable devo metterlo in monitoraggio quindi clicchiamo sull'ingranaggio andiamo su proprietà audio avanzate e qui su monitoraggio audio clicchiamo su monitora l'audio e invia l'uscita poi clicchiamo su chiudi adesso lanciando il nostro alerts lo sentiremo anche noi l'ultima parte del video come l'altra volta la dedico alla rimozione della traccia all'interno dei VOD per evitare il copyright in live e quindi gli strike per fare questo dovremo andare di nuovo all'interno delle impostazioni di OBS andare su uscita e qui come vedete abbiamo traccia audio sull'1 il che significa durante le nostre live avremo tutto quanto l'audio nella traccia 1 per quanto riguarda invece il VOD lo dovremo abilitare e selezionare ad esempio la traccia 2 quindi vuol dire che all'interno di VOD non saremo sulla traccia 1 ma saremo sulla traccia 2 dopodiché clicchiamo su ok andiamo nel mixer audio scorriamo in basso andiamo su musica proprietà audio avanzate apriamo questo perché qui all'interno abbiamo l'eseguibile di Spotify e sicuramente inseriremo delle canzoni col copyright quindi per rimuoverlo dal VOD basterà individuare la traccia musica che è la penultima andiamo tutto quanto a destra e dobbiamo rimuovere la musica dalla traccia 2 perché la traccia 2 è quella dedicata ai VOD possiamo insieme alla musica se non vogliamo nelle registrazioni dei nostri VOD l'audio degli alerts rimuovere anche quello basterà individuare qual è la traccia questa qui perfetto allora scorriamo tutto a destra togliamo dai VOD anche gli alerts ora abbiamo configurato tutta quanta la nostra live perciò non rischieremo più il ban per il copyright abbiamo impostato i VB cable che gestiscano a parte la chat di gioco e abbiamo abilitato all'interno della fonte browser la possibilità che l'audio venga gestito da OBS Studio bene ragazzi il video termina qua spero tanto che vi sia stato utile questa qui è la guida sicuramente più approfondita di YouTube Italia perché abbiamo portato un aggiornamento al 2022 di questo nuovo plugin che è davvero fantastico va addirittura a sostituire in parte quello che è un GoXLR per quanto riguarda la separazione degli audio per qualunque tipo di problematica per una prima configurazione di OBS Studio StreamElement e tanto altro mi raccomando veniteci a trovare sul nostro sito internet perché abbiamo appena inserito una nuova funzionalità di assistenza tecnica dedicata ai content creator come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina e di venirmi a trovare in live su Twitch qui sotto in descrizione vi lascio il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer e appunto il nostro sito internet noi ci vediamo alla prossima buona streaming a tutti